Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Buon lunedì a te e ti auguro una buona settimana. Oggi, nell'episodio di oggi, parleremo di questo tizio qui. E adesso dimmi tu, la prima cosa che hai notato di questo tizio, che si chiama Rubiel, è il collo. Questo è senza dubbio uno dei colli più grossi che io abbia mai visto, ok? Lui si chiama Rubiel, soprannominato Neckzilla, Godzilla, Neckzilla. Tra l'altro che il suo soprannome li calzi a pennello. Lui è un IFBB Pro Elite, ecco perché forse è poco conosciuto. Perché tra IFBB Pro Elite e un IFBB Pro dove si può qualificare a Mr. Olimpia c'è una grandissima differenza. Un IFBB Pro Elite non può prendere punti per gareggiare all'Olimpia, deve per forza gareggiare nella federazione IFBB. Anche se, se prendiamo noi ad esempio, a parte il collo, dopo ci torniamo al collo di Rubiel perché è qualcosa di disumano. Io trovo che lui abbia tutte le componenti per andare nel IFBB. Perché tralasciando il collo che sia una farmacia ambulante, ragazzi, quello lo sappiamo. Guardiamo la sua struttura. Ha veramente una struttura dove può portare tantissima massa muscolare. Ed è proprio il suo caso. Gambe immense e polpacci molto grossi. Molto grossi, cosa che non si vede. Sì, voi vi direte, ok, un bodybuilder deve avere i polpacci grossi. Ma ragazzi, non è il caso, fidatevi, se voi guardate, tanti bodybuilder hanno quadricipiti immensi, però il polpaccio non segue l'immensità del quadricipite. Ma nel caso di Rubiel trovo veramente che il suo polpaccio è così grosso che segue quasi alla perfezione, se non alla perfezione, la grandezza del quadricipite. Ok? Ma torniamo al collo, ragazzi. Guardate questa foto. Il collo di Rubiel misura 51 centimetri. Qui stiamo parlando di un uomo che ha un collo di 51 centimetri. Quelli che praticano box oppure altri sport di atletica, ad esempio il rugby americano, so che allenano direttamente il collo. Io non ho mai visto Rubiel, non lo so, su Instagram allenare direttamente il collo con degli esercizi. Quelli che praticano box o il rugby americano lo fanno per ricevere, non so, impatti, per assorbire meglio impatti che gli vengono, ecco, dati sul viso. Ad esempio in box ovviamente i pugni, nel rugby americano pugni, comitate, spallate. Quindi un collo grosso può sicuramente proteggerti degli impatti. Io trovo veramente che un collo grosso, muscoloso, aumenti senza dubbio l'estetica di un fisico. Te cosa ne pensi? Fammi sapere se anche tu trovi veramente un bel collo muscoloso, forse non come quello di Neckzilla, ovvero Rubiel. Perché comunque è esagerato, non ho mai visto un collo così grosso. Aumenti l'estetica di un fisico. Io personalmente trovo veramente un collo grosso, aumenti l'estetica di un fisico. Guardate ad esempio, ecco, vi prendo l'esempio di questo attore americano, molto conosciuto. E lui conosciuto anche per avere un collo abbastanza imponente, ecco. Guardate quando io vado a photoshopare il suo collo, ovvero lo faccio leggermente più piccolo. Guardate che la differenza enorme che c'è tra, non lo so, come segue l'estetica, eccetera. Un enorme cambiamento. La mia domanda adesso è, tu per caso alleni il collo? Io sinceramente non ho mai allenato direttamente il collo, mai. Forse indirettamente, no, forse, indirettamente facendo ad esempio delle scrollate pesanti, ecco. Oppure degli stacchi da terra, indirettamente andiamo ad allenare il collo. Ma io direttamente non ho mai allenato il collo, come ad esempio lo fanno certi atleti, oppure ecco, persone che praticano la box. Comunque ragazzi, voglio veramente dedicare un video a Rubiel, perché, come dicevo, è veramente impressionante. 51 centimetri di collo. Uno dei colli, come ho detto all'inizio video, più grossi che io abbia mai visto. Mi ricordo, tipo, quando guardavo il wrestling, una persona che mi ha veramente impressionato era Kurt Angle. Ve lo ricordate? Vi sto parlando di quando avevo 13 anni, minchia, ne ho 31 adesso. Kurt Angle, ragazzi, era uno dei miei preferiti. Collo grosso proprio. Un atleta fantastico. Ragazzi, volevo ringraziarvi innanzitutto per l'enorme supporto. Tutti i like, veramente. Io apprezzo veramente ogni singolo like, ogni singolo commento, vi giuro. Io leggo tutti i vostri commenti. Sicuramente tu adesso ti starai dire, ah, non è possibile, leggi 600, 700 commenti. Vi leggo tutti quanti. Anche se non lascio un cuoricino sotto tutti i vostri, io vi leggo tutti quanti, ragazzi. Io apprezzo veramente l'enorme supporto che date al canale. Quindi, ragazzi, grazie veramente di cuore. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, ovviamente lasciate un like, sempre molto apprezzato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere il prossimo episodio. E noi ci vediamo mercoledì. Mercoledì, sì. Un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao, ragazzi.